bello io bentornati su real napoli football ragazzi andiamo subito a vedere chi ci toccherà affrontare in questa puntata di divisione 3 stiamo provando a scalare verso la divisione 2 ma chiaramente diventa sempre sempre molto complicato nonostante per il momento abbiamo fatto quattro vittorie su cinque partite andiamo a scoprire il prossimo avversario come sempre se vi fa piacere lasciate un like al video iscrivetevi al canale e soprattutto commentare a fine partita e farmi sapere che ne pensate di quello che avete appena visto detto ciò attendiamo che il sistema ci accoppi con il nostro prossimo avversario e vediamo che succederà in questa fantastica puntata no però io scherzo anche se con la vostra persona voglio bene no ma tranquillo Aldo ma si fa per scherzare lo so bene tranquillo 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 scherzo anch'io spesso l'altro avversario trovato roma napoli roma napoli roma e 28 millesimo questo è attenzione attenzione 28 millesimo roma napoli roma napoli partita e tra l'altro si giocherà a breve anche se questo video lo vedrete pubblicati pubblicato molto più in là vedo anche tutti porca troia abbiamo anche sa e c'è mezzo centrocampo è morto praticamente per dirla breve e e quindi casus e l'altra mezzala potrei usare elmas potrei usare elmas che comunque non è ancora ufficiale che se n'è andato e penso proprio che sia il caso elmas che non entra al posto di zambone chissà il resto è tutto ok ragazzi stanno tutti bene eh porca troia Snyder totti pempemessi mamma mia io questo c'è uno squadrone e mi sa che pure forte questo mi sa che pure forte all'olimpico partita che si prospetta difficile nostro amico ha una serie di fenomeni si parte attenzione provano a spingere subito loro con giannino di lorenzo che si fa superare mettono palla dentro nata la mette giù angissa palla per zielischi che allarga per mario lui che vada a kvaraschelia palla per zielischi attenzione zielischi torna da kvaraschelia si gira kvaraschelia attenzione kvaraschelia può arrivare già al cross verso vittorosimena palla messa fuori peccato siano i caciuste zielischi recupera palla zielischi dietro per mario lui che appoggia a natan raccomani di lorenzo palla per caciuste dentro per raccomani di lorenzo di nuovo niente da fare peccato qui raccomani prova a tornare e natan qui fa un miracolo palla verso simen recuperata da viera attenzione mario lui bel beck di mario attenzione appoggia per zielischi zielischi allarga verso caciuste palla verso giannino di lorenzo scende di lorenzo appoggia elmas caciuste ancora elmas però simen entra zielischi pietro zielischi ci porta avanti pietro zielischi ci porta avanti eh fa lo so un po' di pazienza con la pubblicità un po' di pazienza intanto siamo passati ragazzi contro la roma per il momento con pietro il grandissimo pietro grandissimo raccomani qui errore però di raccomani ancora totti sulla traiettora traiettora sulla traiettoria ci sta anch'issà è natan cazzo ci sta natan e palla in calcio d'angolo mi elapsi su aio mi dimentico tutti i giocatori che ho in campo comunque calcio d'angolo di snyder caciuste mette fuori politano riesce ad appoggiare ad elmas che fa correre osimen che per poco non in buca attenzione elmas segura una gran palla dentro per victor osimen che può andare vittor 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 osimen che tira la parata di canno tirato da troppo lontano però siamo riusciti ad andare in contropiede clara scheria prova a dare una mano anche lui mario lui bravissimo lui su sceva attenzione attenzione natan niente da fare insieme attacca la roma elmas palla dentro racmani fuori gioco eh hai ragione mi sono fatto prendere un po' dal fatto che stava solo lui io ho sbagliato perché la bisogna essere cinici meretta rilancia lungo verso osimen che appoggia ad elmas che la dà a giannino di lorenzo che vada caciuste che vada elmas che cambia lato verso mario lui che appoggia a caciuste facciamo girare palla zierischi palla debole di caciuste purtroppo caciuste adesso prova a dare una mano con insieme a di lorenzo che chiude su snyder non ci riesce arriva racmani e meretta rilancia lungo osimen arriva un po' di ritardo ricopra la palla osimen prova ad allargare male verso matteo politano troppa fretta qui arriva racmani appoggia per mario lui che allarga per faraschelia che appoggia per zierischi prova ad andare dentro niente da fare zierischi si fa scivolare la palla tacco inutile di giannino di lorenzo la palla resta lì di lorenzo prova a rimediare ci riesce però poi esce troppo attenzione candela cross di candela raccomani e caciuste calcio d'angolo ce la caviamo qui ragazzi attenzione ce la caviamo qui calcio d'angolo per la Roma ancora snyder cross in mezzo c'è lui subierà chiaramente sovrastato zio però è stato ciocco pesciato me la devi spiegare quest'aldo perché chiaramente non so che cazzo ah ho capito ho capito adesso ho capito scusami adesso ho capito Meret Osimena prova a spizzare a mettere dietro verso caciuste che ha prova ad appoggiare ci sta schiacciando un po' la Roma al momento Messi prova ad andare d'esterno gran palla di Messi arriva a raccomani ma ancora calcio di punizione per noi grazie al fuorigioco la linea sta giocando bene si sta muovendo bene per il momento Meret prova a rilanciare sempre verso Vittorosimena che stavolta riesce ad appoggiare verso Elmas palla per Di Lorenzo dietro per Caciuste Caciuste ancora errore di Caciuste in costruzione attenzione Mario lui ci è messi Ziedischi ci facciamo invocare qui purtroppo attenzione Maicon che tira Meret e poi palla fuori Ziedischi Caciuste allarga per Elmas che prova ad andare dentro direttamente da Vittorosimena che appoggia doveva darla di prima Vittor attenzione che non stiamo riuscendo più a superare bene la metà campo stanno attaccando loro Nathan allarga verso Quaraschelia che prova ad appoggiare verso Zielo niente da fare attacca ancora la Roma Berri per la palla di Caciuste Quaraschelia dentro per Ziedischi proviamo ad affondare adesso Ziedischi dribbling incredibile di Ziedischi che prova il prossimo e giù arriva Ziemenn Khan abbiamo quantomeno provato ad affondare Khan rilancia lungo c'è Mario lui che prova a dare fastidio no attenzione Meret training hanno Maicon che prova il pallonetto e lui la riesce a mettere a terra facile facile Caciuste allarga male verso Gianni di Lorenzo la palla torna a Caciuste di Lorenzo ancora scende di Lorenzo appoggia per Elmas che scende Elmas 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 prova la botta la palla arriva dall'altro lato deviata Nathan prova a chiudere Nathan non ci riesce pure di Lorenzo saltata da Snyder attenzione Nathan eh no Caciuste qui bravissimo però sbaglia poi l'appoggio attenzione Mario lui dentro e Meret mamma mia miracolo miracolo di Meret ragazzi stiamo tenendo un po' in difesa anche perché sbagliamo degli appoggi abbastanza semplici attenzione Snyder dalla bandierina calcio d'angolo c'è Rachmani che mette fuori Politano va da Zielo che la ridà ad Elmas che prova ad allargare per Politano che prova ad andare dall'altro lato peccato qui era un'occasione buona Rachmani deve spazzare per chiudere il primo tempo in vantaggio per il momento 1 a 0 stiamo tenendo ragazzi ma la Roma sta attaccando sta giocando bene quindi bisogna assolutamente tenere assolutamente tenere si va si va palla per Cajuste Nathan Mario lui allarga per Quaraschelia dentro per Zielischi che si gira Zielischi va ancora da Quaraschelia cross in mezzo attenzione c'è Giannino Di Lorenzo riesce ad andare Napolitano che riappoggia a Di Lorenzo dietro per Cajuste va Napolitano dentro per Di Lorenzo si gira Di Lorenzo appoggia ancora per Politano palla per Giannino Di Lorenzo che arriva al cross in mezzo si manni testa niente da fare ma abbiamo costruito bene alla fine per un cross pulito per Giannino ma oh sì la mette fuori purtroppo Canne rilancia a lungo attenzione Rachmani chiude Rachmani fantastico Elmas palla per Politano che si gira Politano va dentro non ci riesce arriva Di Lorenzo attenzione Di Lorenzo sulla fascia Di Lorenzo può crossare palla verso Canne che para facile attenzione Kovara Schelia Kovara Schelia errore loro e Kovara raddoppia errore pazzesco di Canne e Kovara raddoppia per un 2 a 0 che potrebbe darci più tranquillità attenzione Zieliski Nathan dentro Meret poi Mario poi Mario lui prova a metterla fuori fallo laterale nostro sì sì dai attenzione Mario lui Zieliski vada Osimena che appoggia a Elmas che fa una cosa strana ma la palla arriva Caciust errore di Caciust che però ricopra la palla e prova a imbeccare subito Politano che appoggia a Elmas si gira verso Zieliski che allarga per Mario lui dentro per Osimena appoggia per Zieliski prova ad andare ancora da Elmas niente da fare peccato attenzione ha partito è partito Snyder attenzione deve chiudere Giannino Di Lorenzo Giannino Di Lorenzo Snyder dentro mamma mia Mario lui comunque aveva chiuso fuori gioco di Sheva Meret rilancia lungo verso Victor che appoggia Zieriski che ricopra la palla e fa correre Karaschelia che prova a metterla dentro per Osimena arriva Osimena che crossa ma la palla sbatte sui difensori provano a ripartire e arriva Caciust che però si fa bruciare attenzione Zieriski Mario lui fantastico e poi palla per Zieriski Karaschelia dentro per Elmas che prova ad andare dentro fallo su Elmas ed è giallo per Ruben Dias attenzione Elmas a che minuto stiamo 63 è santo Lindstrom facciamo entrare al posto di Matteo Politano ok c'è anche Raspadoli che sta bene però si mi sta giocando bene io lo lascerei così sta un po' libera per il maestro qualche cross non si può mai sapere e va bene così dovresti prendere perché ti aumenta anche l'overall della squadra no in realtà preferirei non aumentare l'overall della squadra inutilmente in questo in questo modo cioè in questo momento per vari motivi per vari motivi e poi ti ripeto rischio di spendere tante monete fra per un giocatore che però mi fa aumentare un po' l'overall però alla fine non mi serve realmente cioè non mi serve tantissimo quello è il discorso intanto siamo in attesa che si riprende il gioco abbiamo messo Lindstrom sulla destra e Olivera in difesa sulla sinistra si sta per ripartire eccoci qua Elmas dà la bandierina Elmas prova ad andare direttamente da Victor Rosimane che si gira non prende palla vittor spettato Tan rilancia Caciste a sportare palla Olivera non riesce qui Nathan fantastico allarga poi per Carastelia che appoggia Zilischi che va dentro da Victor Rosimane attenzione 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 che la Roma chiaramente ha voglia di rifarsi Nathan grande Nathan appoggia poi a Zilischi che scende vada Carastelia dentro per Elmas e ancora punizione ancora fallo no Aldo ma figurati tu mi puoi fare le domande che vuoi tu non è un problema se io già l'ho chiarito già l'ho detto non ho nessun problema tranquilli mi fa solo piacere fatemi tutte le domande che preferite se vi so rispondere mi rispondo altrimenti non che stai intanto intanto non so che cambio vuole fare che cambio vuole fare attendiamo e noi lo attendiamo che non possiamo fare diversamente tra l'altro perdono veramente tanto tempo a volte quindi non so che cazzo fanno però tanto lui adesso ha finito andrò sempre da Victor che viene un po' spinto ma no Kajuno attenzione Olivera deve chiudere su Maronna attenzione su Nakamura Kajuste va da Osimen che prova a girare la Kvaraskela che rientra Kvaraskela dentro per Osimen che sto popolazione pazzesca Victor mamma mia Kan ci ha negato Kan ci ha negato un gol incredibile ragazzi ci ha negato un gol incredibile è ancora giallo per PMP sta ammonendo tutta la squadra ma io ci ha ah c'è tutto cazzo bravo c'è tutto cazzo fra Wai ci ha praticamente ci ha tolto un gol assurdo sarebbe stato un gol incredibile intanto la palla andrà da Ziriski verso Victor Rosimen che prova a rimetterla dentro Victor arriva Giannino niente da fare c'è Elmas da fuori ah mannaccia mannaccia questione Ziriski provo a dare una mano 0-0 se Camilla non ci arriva raccomani Olivera Ziriski dentro per Elmas che si gira vede Rosimen prova ad allargare viene contrastato si perdiamo palla prova a ripartire la Roma non ci facciamo eh no invece ci siamo fatti bucare alla grande arriva Salah che la mette fuori ragazzi e qua devo esultare per un errore suo perché sarebbe stato un gol che ci avrebbe creato parecchi problemi invece Salah la mette fuori e possiamo ripartire con Meret che rilancia a lungo attenzione Meret Simen prende posizione palla per Ziriski che si gira a coprire Kajuste a dare una mano non ci riesce Kajuste fino in fondo a dare fastidio a chiunque reguora un po' palla ma un po' no Ziriski su Pempe attenzione Kajuste Rachmani ancora Pempe palla fuori attenzione Rachmani Nathan spazza subito verso Simen che appoggia per Kvara Schella ma c'è ancora Nakamura spinge la Roma Ziriski a dare una mano contro tutti anche lui Olivera su Nakamura passa Nakamura c'è un fallo ma Nakamura va fino in fondo Meret fantastico Meret fantastico Meret che poi rilancia verso Vittor ancora palla per Elma sta palla ma arriva arriva Kajuste però si fa bruciare ancora Kajuste che forse sarà ancora stanco Elma Kajuste Ziriski Osimen prova ad andare verso Lindstrom che ancora non ha toccato palla praticamente Osimen anche lui a dare una mano torna di Lorenzo Ramani Nathan Olivera prende palla e rilancia ancora verso Vittor che prova ad appoggiare niente da fare arriva Rakamani palla per Ziriski Elmas Osimen Ziriski dentro Ziriski palla per El però Simen si perché non l'ha data di prima attenzione Listro non riesce a dare una mano Giannino di Lorenzo appoggia per Listro la partita è pressoché quasi finita ragazzi dobbiamo solo tenere si ferma Salah recupera palla Rakamani con fallo punizione per la Roma Salah butta dentro questa palla arriva Di Lorenzo Candela cross in mezzo Meret la mette fuori e Ziriski spazza verso Vittor la partita è finita ragazzi Elmas Ziriski finisce qui Roma Napoli 0-2 ce la portiamo a casa bene così ragazzi ci vediamo alla prossima Avanti Napoli ha mostrato personalità impegno